Oh, giusto così, tutto bellissimo, tutto perfetto, niente da dire, guarda stasera proprio, ah ma che bello vedere la squadra che gioca così serena, nonostante le notizie ultime di oggi, che palle di Obono, le menache tra Biraghi e appunto l'allenatore, Parisi anche in mezzo, che tra l'altro oggi gioca titolare, mette l'assista per il primo gol di Sottil, gioca benissimo in generale, Quindi io spero che Parisi rimanga e secondo me non vuole andare via Fabiano, poi l'allenatore ha cagato fuori dai vaso perché gli girava di molti cazzo, però insomma giuffrida, giuffrida, vabbè, però dico a parte quello, partita perfetta, davvero, guardate, sono veramente contento, non ho veramente niente da dire, segna Gudmusson e ritrova i gol, segna il primo gol Richardson, fa doppietta Sottil, segna Icone, vabbè poi l'autogol che in realtà poi C'era il tiro lì di Colpani, l'unico neo, l'unico neo di oggi, peccato, peccato E Ken ragazzi, Ken che aveva trovato il gol al primo minuto, è annullato giustamente per fuorigioco, anzi no scusate, per tocco di mano, non per fuorigioco, per tocco di mano E ci hanno provato in tutti i modi a farlo segnare a questo ragazzo, ma quando non è la tu serata, non è la tu serata, non c'è verso, quando non è la tu serata non segnerai mai, nemmeno per sbaglio, quindi è andata così Va bene, non ti preoccupare Moise, tanto hanno segnato tutti gli altri per te praticamente Debutto tra l'altro, contentissimo per Martinelli, Tommasone Martinelli, bravissimo Perché poi su quella stronzata all'undicesimo minuto di Kaiode che gliela voleva ridare di petto Si è buttato in maniera perfetta, ha fatto una grandissima parata E poi vabbè, un po' anche il culo che la palla lì finisce sulla traversa E ci sono gli attaccanti avversari che non riescano a ribadirla, certo Ora, parliamoci di Arolask, pochissima roba, ve lo dicevo anche ieri Squadra che è in difficoltà in campionato, in conference l'esima Cioè, era ovvio che potesse finire con un risultato del genere Fa sempre piacere comunque, perché alla fine serve anche proprio per dare, a parte mentalità Anche alle nuove giovani leve, entra Harder oggi Volevo anche in campo Rubino, però va bene lo stesso Cioè, nel senso, c'era comunque Martinelli Sono contento un po' per tutto in realtà stasera Davvero, veramente, l'unico peccato, l'unico neo era Ken Io volevo insegnarsi a questo punto, perché si vedeva, c'aveva voglia E gli girava il cazzo che gli avessero annullato il primo gol Mancava davvero solo lui Poi hanno giocato tutti benissimo, ovviamente Anche perché il Lask, ragazzi, squadra brava a fare un minimo di contropiedi A fraseggiare, ma difensivamente proprio, mamma mia Cioè, nemmeno noi con Palladino, con la difesa a tre Sera messi in questa maniera Tra loro e il portiere, però vabbè, insomma Squadra, squadretta dai Squadra da bassa serie A, alta serie B Ok? Che tra l'altro hanno giocato anche male Quindi, una serie infinita di cose Però, davvero, ragazzi, sono contento proprio per tutti questi fattori Proprio perché anche queste notizie di Biraghi Il capitano, appunto, che in rottura con la società In rottura con l'allenatore, con la piazza Con il procuratore Che comincia, appunto, a dire A fare la voce grossa Le palle Palladino, voglio dire se c'ha le palle Ander tu chiacchierai un'altra volta Insomma, ander tu dirai tutte le cose Insomma, tutti questi grandi discorsi Che a me fanno proprio girare il cazzo perché non servano a niente Non servano a niente Non servano veramente a nulla Peccato, peccato Tutta sta faccenda Si sapeva più o meno che a gennaio Biraghi sarebbe potuto andare via Peccato, peccato, peccato Per tutto Per tutto sto casino Per tutto sto monte che non serve a niente Tutto sto Cioè, capito? Si sapeva di già che Biraghi andava via Chi cazzo se ne frega di fare tutto sto casino? Ma perché? Ma chi cazzo se ne frega? Cioè, avevi visto? Stasera si è vinto 7-0 Gioiamo e basta Fino a che tu stai a Firenze bene E poi quando tu va via Ti si ringrazia e basta Perché poi se tu va via In queste condizioni Dopo tutto sto casino Che tra lui Il procuratore E tanto la rottura anche con l'allenatore Che c'è staca E Insomma Non è più sanabile Alla fine tu te ne vai Capito? Anche in maniera Super negativa così Perché? Ma perché cazzo? Vabbè Lasciamo perdere via Dai Sono contento per stasera Domani live reaction Metterò un miliardo di anni a montarla È successo 700 cose Stasera se non c'è i bar Sarebbe finita minimo 9-0 Però comunque Ottimo anche perché In vista della partita contro il Bologna Serviva davvero una vittoria Proprio agevole Agevole Dove tutti giocano bene Dove Richardson sembra Vieira Dove Mandragola Sembra Iniesta Che smista palloni Sottile Sembra Overmars E Iconee Iconee E Kwame Kwame ragazzi Kwame da comprimario Kwame da comprimario Parliamo neanche di questa cosa Kwame oggi Ha diciamo Supporto della punta Mmm Ma lo sai Non è una attiva idea Perché Per carità Ve lo vi ripeto La squadra avversaria era scarsissima Però Da subentrato Come aiuto della punta Mmm Non è Guardate che gambine Queste potenzialità Per far sta roba A fare il protagonista La prima punta centrale Eh No Zero Ovo Ok Però fa questa roba qui Tanta roba invece Tanta roba Molto utile Quindi almeno Sotto quel punto di vista Un giocatore utile Che si ritaglia il suo spazio Io spero Perlomeno per lui Si riesca a ritagliare Sotto questo punto di vista Poi sotto quegli altri Lascia fare a quegli altri Oh Go Beh bene ragazzi Cioè Beh che cazzo devo dire Benissimo Cioè Non chiedevo altro Proprio davvero Avevo bisogno Avevamo bisogno tutti Di un risultato positivo In primis Almeno per andare A giocare contro Il Vittoria Guimaraes Molto più Con le palle appoggiate in terra E poi li vedremo Perché comunque L'onora trasferta Contro una squadra Nettamente più forte Di quella abbiamo affrontato Stasera Che è anche di sicuro Molto più organizzata Più difficile da affrontare Che se tu affronti Con la squadra B È ancora più complicato Però poi da lì si vedrà E poi in vista Della partita contro il Bologna Perché ragazzi Andare a giocare al Dallara Sì Il Bologna Quest'anno Non è tutta questa Grande squadra Però Ci sono le partite Che se le imbrocca bene Sono grandi cazzi Anche se c'è qualche assenza Ma sarebbe ottimo Portarsi a casa Anche un risultato Positivo da Bologna Sarebbe incredibile Non ottimo in realtà Dopo stasera poi Magari Qualcuno ha preso Anche un pochino Di convinzione Vedi Gudmolson Magari Con rigore Realizzato In maniera perfetta Magari Capita anche lui Riprende un attimo Di Capito? Fatemi sapere La vostra sotto nei commenti Sempre forza Veola E ci si vede domani In una live reaction Ciao ragazzi Ciao ragazzi